vengano travisate o che, vabbè, giustamente togno fa i suoi pensieri in base alle frasi che io ho detto o alle frasi che io ho scritto, vedendo le vostre risposte e avendo immaginato che io avessi avuto delle sensazioni, ovvero che Mattia mi avesse tradito, che io avessi ricorna, per cui l'ho lasciato. Il motivo non è questo, le mie sensazioni, i miei stessi sensi non erano riferiti a quello, ma ad altre cose in base al nostro rapporto, ok? Quindi mi dispiace se avete pensato voi, soprattutto mi dispiace se magari avete raffigurato lui come una persona di merda e non mi riferivo assolutamente a questo, ma ad altro. Che poi quelli sono problemi nostri interni, era un semplice sfogo ed era appunto, come dicevo, riferito ad altri lati della fine del nostro rapporto.